Il mondo agricolo è in protesta ormai da giorni, le strade statali e provinciali della Capitanata vengono percorsi a passo duomo dai trattori guidati dagli agricoltori in protesta da tre giorni ormai per chiedere maggiore attenzione nei confronti del settore agricolo strategico per l'economia soprattutto della provincia di Foggia. Un settore che sta vivendo un momento di forte crisi con una serie di problemi che sta mettendo in ginocchio l'economia agricola. Nei giorni scorsi un gruppo di agricoltori appartenenti al comitato spontaneo è stato ricevuto dal prefetto di Foggia Valiante a cui hanno esposto le problematiche prima tra tutte e quello che i costi superano spesso i ricavi. L'attenzione ora è rivolta al mondo sindacale incontro con le sigle datoriali.